Nel corso dell'intensificazione dell'attività di controllo economico del territorio, disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e finalizzata a verificare il rispetto delle norme emanate dall'autorità per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid e anche in materia di sicurezza dei prodotti post in vendita, i finanzieri del gruppo pronto impiego di Palermo hanno sequestrato in un emporio ubicato in via Oretve gestito da un soggetto di etnia cinese circa 5.000 articoli tra giocattoli e mascherine chirurgiche detenute per la vendita. In particolare le Fiamme Gialle, a seguito di un approfondito esame della merce esposta per la quale il titolare dell'emporio non è stato in grado di esibire le relative fatture d'acquisto, notavano che numerosi giocattoli raffiguravano personaggi di cartoni animati Disney e Marvel e altri marchi di formi rispetto a quelli originali e pertanto presumibilmente contraffatti, in quanto oltre a non riportare alcun ologramma, presentavano anche delle imperfezioni per quanto concerne la manifattura, data la scadente qualità dei materiali utilizzati. I militari hanno anche trovato alcuni pacchi contenenti circa 2.000 mascherine chirurgiche sprovviste delle indicazioni di provenienza di fabbricazione e senza alcuna indicazione circa la sicurezza sanitaria. I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro di 2.769 prodotti contraffatti e di oltre 2.000 mascherine chirurgiche e alla denuncia all'autorità giudiziaria del titolare dell'attività per introduzione nello Stato e commercio di prodotti consegni falsi e frode nell'esercizio del commercio e ricettazione.